Ciao e bentornati su Bedos Mototour. In questo video vi parlerò di un sacco di cose, vi parlerò della Desert X come indicato nel titolo, ma soprattutto vi parlerò in generale dell'esperienza al motociclismo Tester Day che si è tenuto a Sestriere lo scorso weekend, il 16 e il 17 di luglio. Sono stato al Tester Day con Marco e Fabio, i miei diciamo soliti compagni di avventure e abbiamo deciso quasi per scherzo di iscriverci a questo evento un paio di mesi fa, ma devo dire che è un'esperienza che secondo me, secondo noi vale la pena di essere vissuta e adesso ve la racconto un po' sia per quello che riguarda appunto come funziona l'evento in quanto tale, sia poi per quello che è l'aspetto prettamente motociclistico, quindi che moto abbiamo provato, come ci sono sembrate e tutto quanto. Quindi partiamo dall'inizio, il Tester Day è un evento organizzato da motociclismo con tre appuntamenti annuali, perlomeno quest'anno erano tre, questo era l'ultimo, in diverse località d'Italia in cui c'è un vasto parco moto di praticamente tutti i tipi messo a disposizione dalla redazione e a cui ci si può iscrivere decidendo a quale turno e a quale gruppo andare insomma a partecipare, con quale tipo di moto andare a guidare. Nello specifico noi eravamo appunto a Sestriere abbiamo fatto la tappa della categoria Sport Tourer il sabato pomeriggio e delle Glober Trotter domenica. Esistono poi altre categorie, c'è l'Adventure, quella è un po' orientata più appunto alle maxi enduro, all'entro fuoristrada, la categoria elettriche che è a sua volta molto interessante, le ipernecche delle super sportive, un po' più o meno tutte le categorie, le principali categorie. Purtroppo insomma per come è fatto l'evento, insomma anche immagino per motivi logistici, non a tutte queste tappe ci sono le stesse moto, quindi ad esempio la grande assente dell'edizione di Sestriere era la GS12 che invece c'era alla scorsa edizione e poi ci sono stati alcuni piccoli inconvenienti che vi racconto strada facendo. Quindi come funziona? Si arriva? Allora, prima di tutto ci si deve iscrivere, quindi c'è il sito, magari chi è interessato a farlo per la prossima volta può andare sul sito di motociclismo, c'è una pagina in cui si sceglie il turno e la categoria. Si paga ovviamente e poi bisogna presentarsi una mezz'oretta prima, insomma, loro dicono un'ora, però il parco chiuso è di solito molto piccolo e molto facile da raggiungere. Si fa un mini briefing con le guide sulle modalità, insomma, di funzionamento dell'evento e poi si parte per un giro. Appunto quest'anno eravamo a Sestriere, in centro, si può dire, in centro Sestriere, dove c'è il villaggio olimpico, l'ex villaggio olimpico e era organizzato molto bene perché c'era questo grande parcheggio con un punto di ristoro, quindi un bar e il distributore. Quindi in un'area molto piccola, molto circoscritta, c'era tutto quello che serviva per poter avere spazio per le moto, per entrare e uscire. Un parcheggio dedicato, molto utile per chi magari appunto viene e molti sono arrivati in moto direttamente a partecipare, oppure se si arriva in macchina e si vuole lasciare l'auto e soprattutto poi il bar e il benzinaio, che sono le altre due cose fondamentali per qualunque evento in moto, cioè mangiare e fare benzina. Ci si iscrive, appunto vengono dati tutti i vari buoni, diciamo, i badge, i pass per partecipare alle comparative e poi si comincia. Allora, noi sabato abbiamo fatto la categoria Sport Tourer, nella categoria Sport Tourer c'erano alcune moto, ho preso un appunto perché erano 10-12 moto per gruppo, quindi anche qui ogni gruppo è composto, diciamo, dalle 8 alle 11-12 moto, alcune però ovviamente sono sovrapposte, quindi ad esempio il Tiger 12 e la Ducati Desert le abbiamo provate sia nel turno delle Sport Tourer di sabato pomeriggio, sia nel turno delle Clover Trotter di domenica. Ok, qua si potrebbero fare, diciamo, delle pignolerie sul fatto che la Desert X non è una Sport Tourer e compagnia, ok, però è anche vero che ormai la maggior parte delle moto in circolazione fanno tutto e lo fanno bene. Quindi ci sta questa sovrapposizione, anzi è comoda perché, perché magari, siccome è fatto appunto a turni, magari uno ha provato, una persona prova la Desert X o prova la Tiger 12 in un percorso un po' sfigato, diciamo, perché in quel momento gli è capitata quella e invece il giorno dopo ha la possibilità anche in un altro gruppo di provarla e magari ha più fortuna. L'evento funziona in questo modo, si parte, le moto sono numerate e ognuno prende la moto numero, io sono partito ad esempio con la numero 9. Ad ogni cambio turno, cambio o sella, diciamo, si sale su una moto col numero successivo. In questo modo, nell'arco di 100-100 erotti chilometri per circa due ore e mezza, si vanno a provare tutte le moto per una quindicina di chilometri a moto. I ragazzi di motociclismo sono molto, diciamo, molto blandi nel senso positivo, cioè abbiamo avuto ad esempio dei piccoli inconvenienti strada facendo, logistici, abbiamo fatto quindi poi un giro in più per recuperare, oppure appunto se c'è la possibilità si fa, finite le dieci moto, le undici moto, se c'è ancora tempo si può fare un giro in più, quindi si riparte da quella iniziale. Insomma, le modalità sono abbastanza flessibili e certo 15 chilometri non sono una percorrenza tale da poter, diciamo, pensare di padroneggiare il mezzo, da avere chissà che riferimenti, però è anche vero che il fatto di poter saltare in tempi molto rapidi da una moto all'altra e volendo, se avete la possibilità e il tempo, potersi iscrivere a più turni in una giornata, quindi si possono provare veramente tutte le moto per un tempo sufficiente per farsi un'idea di quello che quella moto lì rappresenta. Questo era tutto il cappello introduttivo, poi come al solito vi lascio i capitoli nel video così potete saltare ai vari punti di interesse, però era per contestualizzare un po' l'evento e come funziona per chi fosse interessato ad andarci nelle prossime puntate, nei prossimi episodi. Al momento per il 2022 non ci sono altre tappe, diciamo, programmate, però tenete d'occhio il sito di motociclismo dove trovate eventualmente le informazioni. Come dicevo, ho preso qualche appunto per tenere il filo, visto che abbiamo provato qualcosa come 20 moto in due giorni, abbiamo iniziato con le sportture, anche qui definizione molto ampia, perché c'erano dentro moto come la Tuono V4 fino appunto alla Desertix e alla CF Moto 800. La sfortuna ha voluto che per motivi logistici, nel senso che l'hanno grattata, la Tuono V4 non abbiamo potuto guidarla, quindi quella diciamo è fuori categoria, perché appunto non ce l'hanno fatta usare, ci è dispiaciuto, ma ahimè queste cose possono succedere. Andrei per gruppi, perché? Perché c'erano moto di tipologie simili, quindi ha senso secondo me fare un paragone tra moto che hanno senso tra di loro. Inizierei con le due che non sono assolutamente nelle mie corde, ma che mi hanno stupito. Sono la Kawasaki Ninja 1000SX e la Suzuki GSX-S1000GT. Gli amici di Amatsu devono rivedere un attimo il branding, perché questo nome è lunghissimo, ma sono due sportture, Suzuki e Kawasaki appunto, derivate dalle rispettive Super Naked. Sono moto che appunto aggiungono la carena a quel tipo di ciclistica, quel tipo di motore e tutto quanto e aggiungono un po' di sciccherie diciamo per la comodità in viaggio. Tra le due che sono dirette concorrenti, sia a livello di prezzo che a livello di posizionamento proprio di mercato, tutti e tre mi permetterò di dare qualche riferimento anche a nome di Marco e di Fabio, perché ovviamente poi ci siamo confrontati continuamente su questi cambi su queste categorie. La Kawasaki ci è piaciuta tantissimo. È una moto che è veramente piacevole da guidare, ha un motore che definire elettrico non rende l'idea, frena molto bene, ha pochissime vibrazioni, ha una posizione in sella comoda e spinge veramente a tutti i regimi. Anche la protezione aerodinamica non è malvagia. Mentre invece la, devo leggere perché non mi ricordo, la GSX 1000 GT, nonostante sia esattamente comparabile in teoria, c'è risultata un po' meno comoda, ci sono più vibrazioni, proprio in generale non è che vibra un punto preciso, però si sentono delle vibrazioni sparse durante la guida, soprattutto ai bassi regimi e questo va un po' a rovinare l'esperienza di guida, nel senso il comfort di marcia poi di questo stiamo parlando. Anche la frenata ci è sembrata leggermente inferiore, un po' più spugnosa rispetto a quella di Kawasaki, ma soprattutto il motore di Suzuki fino ai 3.000 giri è un po' scorbutico e soprattutto è vuoto, cioè nel senso si prova a fare un sorpasso e magari dimenticandosi di scalare non ha quella spinta, non ha quella erogazione, quella linearità che invece il Kawasaki ha. Quindi diciamo tra queste due dirette concorrenti tutta la vita Kawasaki, a cui si va ad aggiungere anche la Versys 1000, perché c'era la Versys 1000 nell'allestimento top di gamma e su questa siamo stati tutti un po' d'accordo sul fatto che non ci ha fatto emozionare. È una moto che dovrebbe essere una super sport tourer, quindi appunto 1.000, 4 cilindri, cerchi a 17, protezione aerodinamica incredibile e tutto quanto, ma è una moto che non riesce a trasmettere alcuna emozione e che un po' ce lo si può aspettare, non è una moto, non è una Panigale V4, ma allo stesso tempo non riesce nemmeno a essere così coccolona e confortevole come ti aspetteresti da una moto di quel tipo. Magari per un problema di pressione delle gomme, non l'abbiamo capito, ma non è una moto né che ci ha dato confidenza nella guida né che nel complesso ci è piaciuta, quindi diciamo bruttina anche esteticamente, bocciata. Premessa, stiamo parlando, io come al solito lo ricordo nei miei video perché poi mi arrivano sotto dei commenti più o meno diciamo pungenti. Io non faccio il tester di mestiere, purtroppo, però insomma vado in moto da 17 anni, ho avuto 6 o 7 moto diverse, ne ho guidate tante, quindi questi sono pareri che do io personalmente dopo essermi confrontato con dei colleghi motociclisti che hanno più o meno esperienza di me, non sono qui a dirvi non comprate la Versys perché fa schifo, vi dico, la sensazione è stata quella, punto, chi verrà a questo video prenda questa informazione come meglio crede. A questo ruasito bisogna fare poi una piccola variazione sul tema perché c'era una moto che non c'entrava veramente niente, ma lo dico contento, perché era Laia Busa, una moto che io mai avrei pensato di guidare nella mia vita, a cui non mi sono mai nemmeno avvicinato. C'era l'ultima versione ed è una moto assurda, considerate che io ero vestito come sono di solito, quindi con i pantaloni da turismo, ma soprattutto con gli stivali da enduro, quindi ho avuto momenti di panico perché avevo paura che lo stivale nemmeno ci passasse tra la pedana e la leva del cambio, in realtà invece non è comoda, però sono riuscito a usarla. È una moto stranissima, una moto che va benissimo sul dritto, ma che a me ha messo super in difficoltà nel fare le rotonde, è una moto veramente particolare, quindi non mi sbilancio perché probabilmente direi una marea di cavolate. La cosa stupenda però è il motore, è una moto che ha un motore incredibile, c'è il traction control perennemente attivo e soprattutto l'allungo, l'erogazione è veramente da astronave, appena apre un'erogazione linearissima, fluidissima e ti spara nell'iperspazio, quindi è stata un'esperienza, non la comprerai mai nemmeno da tenere in salotto, però è una moto incredibile e devo dire, dobbiamo dire perché l'abbiamo percepito tutti e tre, che sono sensazioni simili a quelle che si provano con la sua sorellina piccola, cioè con la Ninja 1000 SX, nel senso come fascia di motore, cioè un 4 in linea, non ricorda assolutamente quello del GSX 1000, ma ricorda tantissimo l'elettricità del Kawasaki. Chiusa la parentesi sulla Yabusa, sono stati 15 km di terrore perché le curve non riuscivo a farle e nel dritto andava troppo forte, però devo dire che anche nel dritto non si aveva mai la sensazione di essere fiondati per aria, anche se abbiamo leggermente superato le velocità concesse dal codice della strada in certi tratti, ma controllo completo sempre, una moto molto particolare. Chiudiamo la parentesi moto strane e spostiamoci su qualcosa di un filo più, diciamo effettivamente sport tourer. Abbiamo due sorelle che sono la Niken e la Tracer 9 e poi finiamo con uno degli elementi più succosi di questo weekend, che appunto è stato un po' l'elemento tra i nanti e anche livello di marketing, c'era proprio un uomo di Ducati che era lì apposta, che è la Desert X. Allora, Niken e Tracer, non prendiamoci nei dettagli, condividono il motore, ma come sapete la Niken, poi vi metterò delle foto per chi non avesse mai visto una Niken, è quello strano oggetto con le due ruote davanti, le doppie sospensioni, il posteriore della Tracer 9, è tutta una roba un po' strana. Allora, partiamo dalla Tracer 9 che non mi è piaciuta. Io ho sempre puntato la Tracer nuova già da quando uscì la Tracer ai tempi in cui ho preso il Tiger, parliamo del 2015-2016, perché mi è sempre sembrato l'anello di congiunzione perfetto tra il turismo e la sportività. Ho avuto modo di guidare la 09, quindi avevo un'idea abbastanza chiara di come rispondesse quel motore o quella ciclistica e pensavo che la fusione di questi elementi avrebbe portato la moto definitiva per chi non vuole mettere le ruote fuori dall'asfalto. E nero fermamente convinto al punto che sto rompendo le balle da mesi a Marco per passare dalla 09 alla Tracer, poi ci sono salito. Ci sono salito e lapidatemi pure, come dicevo prima sono opinioni personali, ma l'abbiamo percepito tutti, anche parlando con altri ragazzi non del nostro gruppo ma parlando ai posteriori, la Tracer nuova non ci è piaciuta. Quindi io che arrivo da due Tiger, Marco che ha la 09, Fabio che ha l'Ipermotard dell'Africa Twin, altre persone che hanno avuto Kawasaki e moto da pista e compagnia, eravamo d'accordo sul fatto che la Tracer 9 GT non ci sia piaciuta, non ci sia piaciuta premessa. Avevamo la sensazione che nelle curve a sinistra avesse una risposta strana, magari aveva qualcosa con l'esemplare lì, non lo posso escludere a priori. Però in generale la posizione di guida è strana perché ha il culo in alto e il manubrio in basso, quindi un'impostazione che in realtà ricorda quella della 09 ma non mi aspettavo un'impostazione di questo tipo da una moto di questo genere, mi aspettavo una posizione più al contrario col manubrio più in alto. Quindi si ha la sensazione di essere inutilmente caricati in avanti anche quando vuoi guidare morbido. L'impostazione nelle curve, l'impostazione diciamo di guida non è neutra, non ci ha trasmesso niente di buono. Anche a livello di motore non risponde come la 09, è un po' più fiacca. Quindi nel complesso la Tracer 9 GT a me non l'ha fatto impazzire, nel complesso non è piaciuta. Però invece la Niken ha un suo perché. Ora partiamo dal presupposto che è un oggetto assolutamente assurdo e dal presupposto che ingombra come una smart, quindi perde tutto quello che è il vantaggio dell'andare in ciro in moto. Però per assurdo era più piacevole da guidare la Niken della 09, della Tracer 9. È una roba strana, in realtà si guida esattamente come una moto, quindi superati i primi metri l'impostazione è esattamente quella da moto, con questo appoggio davanti molto particolare ovviamente si va a piegare meno non perché non lo permetta il sistema ma perché la sensazione bisognerebbe farci molta più strada per arrivare a mettersi giù davvero. Quindi ci sta, ha un suo perché, la frenata lascia un po' desiderare, si tende sempre a arrivare un po' lunghi, probabilmente per la combinazione tra l'inerzia e il fatto che l'impianto sia come quello della Tracer 9. Ha un suo perché, non so quale ma ha un suo perché. Comunque è stato divertente provarla. Prima di però parlarvi delle bombe atomiche che c'erano in questo gruppo, cioè la Desert X e la Tiger 1200 GD Pro, dobbiamo fare una, la definirei una parentesi cinese, ovvero abbiamo provato la CF Moto 800. Allora, l'ha appresa da poco un mio caro amico, sono andato in concessionaria a vederla, non per comprarla evidentemente, ma per vederla da vicino. È una moto che sulla carta ha del potenziale, ma solo sulla carta. Anche qui io parlo per me, ma l'opinione era condivisa, dai più da praticamente tutto il gruppo. Allora, se la vedi da ferma, ci sta, ha delle buone finiture, è fatta bene, ha anche una bella grafica, ha delle linee interessanti. Quando ci sali però capisci che c'è qualcosa che è andato storto. La posizione è molto infossata, quindi è seduto in basso, anche qua, è seduto in basso col manubro in alto. Bello, è tutto cruscotto digitale, alla luce del sole non si vede, non si riesce a leggere niente, però visivamente carino. Il motore va, il motore diciamo che spinge, comunque è derivato a KTM, quindi diciamo su quello si può stare abbastanza sereni, però il comparto ciclistico è drammatico, sembra veramente di guidare sulla gelatina e quindi poi la risposta in curva dell'impostazione delle curve, lo sterzo è, secondo me, barra noi, veramente discutibile. C'è una moto dove trovi subito il limite e dove non hai né il comfort, per dire è morbido, è un viaggio comodo, né la grinta. È buona la frenata? È un attacco piuttosto aggressivo, pur non essendo radiale, è aggressivo all'inizio ma poi molla. Quindi CFM800 nel complesso, boh, l'abbiamo bocciata veramente tutti. C'è una moto che soprattutto secondo me non vale quei 11.000 rotti euro, se la prendete insomma allestita di tutto punto. Non li vale, però chiudiamo qua perché poi appunto non voglio. Spero di aver modo di provarla, sono andato a chiedere appunto in concessionario per fare una recensione, non mi hanno più, barra, ancora risposto. Ci riproverò, se riescerò ad averla per una giornata la provo in maniera più estesa. Ma quindi adesso siamo al punto dove penso tutti volessero arrivare. Chiudiamo questa prima parte del video, poi farò la seconda parte per la domenica, se no viene fare una roba lunghissima. Tiger 1200 GT Pro e Ducati Desert X. Allora, partiamo dal Triumph perché io ho appena preso la Tiger 1200 Desert Edition, quindi ero un po' intimorito dal fatto di provare la versione nuova, magari pentirmi dell'acquisto, ma devo dire che no. No perché? Perché sono moto completamente diverse. Quando si sale si ha la sensazione di essere su un 800, è super snella, è veramente agile tra le gambe, leggera. Si picchiano le ginocchia sui collettori, sono state fatte queste alette di scarico dell'aria calda che però picchiano non solo a me, ho chiesto anche ad altri. Picchiavamo tutti con le ginocchia su queste alettine qua, che vuol dire che sul lungo periodo o le rompi o comunque ti danno fastidio. Quella parte lì non mi ha fatto impazzire a livello di finiture. L'estetica rimane discutibile, a me non piace quel muso lì, però tecnologicamente è la moto del 2022 alla superavanguardia. Parliamo di dinamica di guida. È una bomba atomica, ha un motore incredibile, un'erogazione superlineare con una coppia veramente da trattore, una ciclistica super precisa. L'ho guidata in full sport, quindi sia sospensioni che erogazione, ABS, tutto in sport. Fantastica, si esce dalle curve a manetta, si entrano nelle curve pinzati, ha una frenata super precisa, super aggressiva, senza essere troppo brusca. È una moto fantastica, mi ha fatto veramente innamorare. c'era anche nel gruppo della domenica, ma purtroppo è capitata a Marco, nel pezzo di guida divertente è capitata a Marco, quindi io l'ho provata poi in un pezzo diciamo normale dove non ho potuto approfittare a pieno, ma nella prova del sabato era un bel pezzo guidato misto in salita ed è una moto che mi ha fatto veramente, veramente, diciamo godere, si può dire, si può dire. A questa si affianca la Desert X. Eccoci qua, finalmente l'ho tenuta in coda per quelli che avranno avuto, diciamo, l'attenzione di arrivare fino a qui, se no appunto chi ha usato i capitoli è arrivato qua direttamente. La Desert X è una moto da teppisti e quindi mi è piaciuta un sacco. Io non sono un fan Ducati, non solo sono mai stato, continuo a non esserlo, però devo dire che ci sanno fare. È una moto che ci sali sopra, è una moto super agile, bella alta, come piace a me, con un'impostazione di guida aggressiva, sei seduto in alto, hai il manubrio nel posto giusto, hai tutto nel posto giusto, le leve, la posizione in sella, la larghezza del serbatoio. L'unica cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è che il manubrio ha una curvatura sull'estremità un po' a corno, tipo come se avesse le corna, quindi all'inizio metti lì le mani e sembra quasi di stare su una moto da cross. È una sensazione strada che probabilmente si può regolare o attenuare o migliorare ruotando al manubrio. Se non ricordo male in qualche recensione l'avevo sentito dire anche da qualcuno di più bravo di me, però superata quella prima impressione lì, poi è una bomba. Il motore fa paura, è super lineare, ha un sound molto bello, una coppia incredibile, non ti lascia mai a piedi e poi ha un bel freno motore, quindi permette di usare anche relativamente pochi freni, di impostare bene l'ingresso nelle curve. È un po' morbida di sospensioni, però ci spiegavano che sono tarate al 50%, quindi si può intervenire sui registri, la si può irrigidire, la si può ammorbidire in base poi all'utilizzo. Noi abbiamo fatto strada, sabato e un po' di sterrato domenica. Nello sterrato di domenica io non avevo quella, però l'ho provata su strada. Devo dire però che comunque è già un setup che permette di fare tutto, tant'è che poi nei pezzi guidati veloci c'era chi riusciva a venire su alla sessandatura di moto puramente stradali come la sua sorella multistrada V4. È una moto molto essenziale, quindi ci sono le informazioni che servono. Si è staccato uno specchietto, quindi Ducati sul fatto di perdere i bulloni rimane fedele alla sua linea, però a parte questo Quick Shift funziona molto bene, la frizione è super morbida. È una moto con cui ho fatto un pezzo di guidato in salita per andare da Sestriera al Pian dell'Alpe. Pian dell'Alpe è dove arriva la strada del Colle delle Finestre. Quindi magari qualcuno di voi che guarda questo video c'è anche stato. La strada che sale al Pian dell'Alpe è una strada molto stretta, tutta tortuosa, che sale asfaltata in mezzo alla montagna, in mezzo a questa vallata. Sono salito veramente facile, a tratti, mettendo giù il piede in stile motard, la puoi guidare veramente come un teppista, oppure, come nel tratto che ho fatto poi domenica di cui vi parlo, nell'altro video, andare anche relativamente a passeggio. Quindi la Desert X bella esteticamente, bella da guidare, un bel motore, una bella ciclistica, con ampi possibilità di regolazioni, appunto, sia a livello elettronico. Io l'ho provata in full sport, con le sospensioni appunto al 50%, probabilmente sfruttando il full sport con un setting delle sospensioni più rigido e delle gomme senza tasselli, diventa veramente una bomba anche su strada. Il cerchio da 21 mi piace un botto, io lo avevo sul Tiger e lo rimpiango ogni volta che accendo la moto nuova, quindi sono super contento del cerchio da 21, la moto veramente agile, veramente bella, veramente tutto. Poi questo video si autodistruggerà tra 24 ore, visto che ho elogiato così tanto Ducati. Questo è quello che è stata l'esperienza del sabato con le Sport Tourer. Nel prossimo video vi parlerò invece di come è andato domenica con le Glober Trottere, dove c'erano delle cosettine sfiziose, come ad esempio la Aprilia Tuareg 660, che ho avuto la fortuna di guidare nel tratto sterrato, quindi ho messo insieme moto nuova e tratto sterrato al forte di Fenestrelle. Se il video l'avete trovato interessante e vi è piaciuto, come al solito potete iscrivervi al canale, mette il like, commentare, se avete qualunque tipo di interesse, volete confrontarvi su qualche aspetto che riguardi tutto questo parco moto, usate pure i commenti, se no c'è il sito bedosmototour.com mi sembra, .it, cercatemi su Google, Instagram, solite cose. Detto questo, ci vediamo al prossimo video.